calcio di rigore per i rossi c'è il calcio di rigore per la squadra in maglia rossa ovviamente dal dischetto il capitano contro Pop parte Totti 1-1 il pareggio dei rossi con il gol realizzato da Francesco Totti dunque 1-1 il risultato il pareggio che arriva esattamente al settimo minuto di questa ripresa calcio di rigore per i rossi trasformato da Totti e adesso anche l'urlo del pubblico indonesiano per Francesco Totti 1-1 dunque il risultato insiste ancora la formazione in maglia bianca con le finte di Macini che prova ad andare cerca lo spazio per il cross ancora Macini la mette dietro per Pjanic in area di rigore fuori per Keita che calcia con il sinistra la gol Seiduke Ita ha trovato il vantaggio per la squadra in maglia bianca esattamente al quarto d'ora di gioco e dunque i bianchi in vantaggio con il piattone di Seiduke Ita sull'assist di Miroem Pjanic Vienga in vivo Vienga in vivo Número 9 Apu Yama Yama Apu Yama Apu Yama Yama